Adesso l'abbiamo provata per telefono, quindi non sappiamo bene con quale fa finire. Adesso l'abbiamo provata per telefono, non sappiamo bene con quale fa finire. Adesso l'abbiamo provata per telefono, non sappiamo bene? Adesso l'abbiamo provata per telefono, non sappiamo bene con quale fa finire. Adesso l'abbiamo provata per telefono, non sappiamo bene con quale fa finire. Adesso l'abbiamo provata per telefono, non sappiamo bene? Adesso l'abbiamo provata per telefono. Adesso l'abbiamo provata per telefono. Adesso l'abbiamo provata per telefono, non sappiamo radice. Con quale di nevole le spaz tenemos. Adesso l'abbiamo provata per telefono qui chce avete graduationnardo, non sappiamo bene? Adesso l'abbiamo provata per telefono da telefono. Let me hold on Let me hold on Let me hold on